In occasione della giornata mondiale del libro, giovedì 21 aprile, nella biblioteca comunale di Caltagirone, presso l'ex educandato San Luigi, si è tenuto un'interessante esposizione di libri rari, fotografie e cartoline d'epoca del fondo antico della biblioteca. Inoltre, in concomitanza con la ricorrenza della morte di Michel de Cervantes e di William Shakespeare, gli studenti del liceo linguistico Buonaventura Secusio hanno letto dei brani in lingua originale. L'esposizione sarà visibile anche per l'intera giornata di venerdì 22 aprile. Giornata mondiale del libro, iniziativa congiunta, biblioteca comunale, liceo linguistico di Caltagirone, Buonaventura Secusio. Sono con la preside Sabrina Mancuso per soffermarci sull'iniziativa che prevede una mostra di cartoline antiche, fotografie antiche, nonché libri rari e di interesse classico e linguistico. Professoressa, direttrice o preside, il senso di questa iniziativa e la collaborazione che state mostrando? Sì, è molto importante che la scuola collabori con il comune, con gli enti territoriali con un unico intento, quello di promuovere l'amore per i libri e l'amore per la lettura nei ragazzi di oggi che sembrano rifugire da questo strumento culturale che secondo me è ineliminabile. Allora, veramente con grande piacere abbiamo aderito alla proposta del dottor Enzo Nicoletti di festeggiare insieme questa giornata mondiale del libro, in modo tale che i nostri ragazzi possano avvicinarsi a questo strumento culturale che è indispensabile per conoscere nuovi pensieri, per allenare la propria mente, per avere sempre un pensiero critico sulla realtà. E in modo particolare, essendo un liceo oltre che classico anche linguistico, ricorrendo il quattrocentesimo anniversario dalla morte di Shakespeare e di Cervantes, pensiamo che sia opportuno anche attraverso le abilità linguistiche che hanno acquisito i nostri ragazzi, ricordare questi due grandi autori con la partecipazione attiva dei nostri studenti. La professoressa Schilaci, Anna Maria Schilaci, insegnante d'inglese a linguistico di Caltacirone. Sì, a linguistico che è al classico. I ragazzi che oggi esporranno sono ragazzi del classico. Anche loro, insomma, hanno studiato, non quest'anno, ma comunque negli anni passati Shakespeare, e avranno l'opportunità di presentare sia un canto, sia due brani, tratto uno dal Mercante di Venezia e uno dal Mids, mi viene in inglese, chiedo scusa, sogno di una notte di mezz'estate, sempre di Shakespeare. La professoressa Manolo è l'insegnante di spagnolo al liceo linguistico e classico di Caltacirone. Cosa ha presentato in questa circostanza? La presentiamo Cervantes in occasione del quattrocentenario della morte di questo grande autore internazionale di fama universale. I ragazzi presenteranno un estratto dell'opera più conosciuta che è l'ingenioso ed algo Don Quixote della Mancia. Presente alla manifestazione della giornata del libro promossa dalla biblioteca comunale, l'istituto Carlo Alberto della Chiesa. Il senso di questa presenza è importante all'interno di una mostra che si propone alla città su piano della cultura. Beh, intanto siamo dei vicini, di rimpettaie, intanto per cominciare. Permettimi la battuta, però questo voglio che sia anche inteso in senso simbolico, altro che di rimpettaie vicini. Lo siamo fisicamente, ma l'auspicio e il nostro PTOF, tutta la nostra offerta formativa, gli stessi stage di alternanza scuola-lavoro, hanno questa grande ambizione in quest'ultimo PTOF triennale che abbiamo predisposto. Quello di accompagnare i ragazzi del professionale verso una formazione a 360 gradi. Non c'è alternanza scuola-lavoro che tenga, che sia veramente all'altezza della formazione umana, se non si accompagna la mano, l'attività laboratoriale, con la riflessione, con il linguaggio. E quindi questa giornata del libro per noi è di assoluto pregio e di fondamentale stimolo. Ed è un tesoro veramente grande, grande chiacca al tagirone. Poco prima, un momento fa, hai guardato le fotografie, la ricchezza di particolari, la ricchezza di conservazione. Cosa ne pensi? Intanto, se la posso dire tutta, mi viene da fare una riflessione. Queste foto stanno facendo il loro ruolo, stanno documentando i momenti della nostra città e non solo. Mi chiedo se non ci sia da fare un passaggio con l'attuale tecnologia digitale che, se non sapentemente governata e gestita, potrebbe lasciarci senza memoria. Io ho questo... non è che voglio fare Cassandra, però mi viene questa perplessità. Lo faccio a volte anche con foto che abbiamo a casa, con foto che abbiamo a scuola. E mi dico, tutta questa mole di foto che il mezzo digitale ci permette, ci permette tante cose, ecco, cura e fino a che punto? Il farne memoria e il portare a consapevolezza ciò che loro documentano, queste foto documentano. Quindi incontri, racconti, cataloghi. Credo eventi da creare attorno a questi documenti. Quindi trovo che dobbiamo stare attenti a imparare da queste foto. Loro, il loro compito lo stanno facendo. Riusciremo a farlo anche noi con i mezzi digitali, punto di domanda. Io spero di, con il settore elettronico, con la web tv, che quest'anno sta facendo passi da gigante, spero di, con il tuo aiuto, di portare avanti questo nell'ipsia, al Carlo Alberto della Chiesa. Ecco, massima tecnologia, ma capacità di documento che non si perda e che non si perda nella giungla della quantità. Ecco, e quindi un'umanizzazione di questi mezzi digitali. Tu ci potrai aiutare tanto, grazie di questo bellissimo invito e complimenti per le iniziative. Molte mi gange, scolgovi da mia nazione, formi da mia variante, cooli da mie amici, hate da miei enemici, diagnostic. Sono un Dio! Ho non ho un Dio? Ho non ho un Dio? Ho un Dio? Ho unesco? Ho un ovo? Ho un ovo? Ho un Dio? Ho un Dio? Ho un Dio? e inculcati dal stesso giorno e giorno come un cristiano è? Se noi ci sbagliate, non ci sbagliate? E se ci sbagliate, non ci sbagliate? Se ci sbagliate il resto, ci sbagliate. Se un giu sbagliate un cristiano, cosa significa? Revenge. Se un cristiano sbagliate un giu, cosa devono essere un esempio cristiano? Revenge. Le sue sbagliate che mi insegnate, io lo faccio. E non dovrebbe essere difficile, ma dovrei essere migliori. E non dovrebbe essere un giudice, ma dovrebbe essere un giudice. non dovrebbe essere un giudice. E non dovrebbe essere un giudice. E non dovrebbe essere un giudice. ma dovrebbe essere un giudice, ma dovrebbe essere un giudice. ma dovrebbe essere un giudice, ma dovrebbe essere un giudice. ma dovrebbe essere un giudice, ma dovrebbe essere un giudice. Ma dovrebbe essere un giudice, ma dovrebbe essere un giudice. e sicuramente, e se non dovrebbe essere un giudice. E stai viene, anche la magistrazione è fatica. E chiudia tanto sul curiosità e il giudice di essere un giudice che vivesse tantissà l'allebri che si trattava per comprare iensi diissonare. E poi quando arriva da quei nostri chiemi e cartas di nessacifo, dove molte parti aveva scritto La ragione della situazione che mi ragione se fa, in tal modo mi ragione implaquece che con ragione che fuori della vostra affermosura. E anche quando erano «Los alti cielos della vostra divinità divinamente con le estrellas se fortificano e al senso merecedore del merecimento che merece la vostra grandezza». Esosio, almas dichosas, che nel montaggio erano libres e incerti, per il che obraste, desde la terra os levantaste, a lo ma santo e a lo mejor del cielo, e a quien vi unire nel rosso cielo de los pueblos la fuerza ejercitaste, che in propria sangria e ajena coloraste es il mare vecino e al nostro suelo. Primero, che il valor portò la vita e i nostri cansati braci, che muriendo con essere vencidos, lleva la vittoria. E questa vostra morta, triste caida, tra il muro e il cielo, os va attivando fama che il mondo sla e il cielo buono. Io se che muero, e se non sono credito, è più certo morire, come è più certo iermi a tutti i piedi. Oh bell'engrado, muerto, antes che adorarti arrepentito, potrei oermi errar in la regione del olvido, di vita e gloria, del favore desierto, gli alliei versi potrai invece abierto, come tuo hermoso rostro e stai scoprito. Che è sta religia? Oh! Guardo pare il duro transe che mi amenaza e mi porfia, che in tuo mismo rigor se fortalece. Hai di aquel che navega e il cielo oscuro, ormanno usando il peligroso rio ad onde norte opportano sorpresa.